Cancelli aperti, persone al lavoro e uno striscione di ringraziamento per tutta la città. E' questo il primo giorno di ripresa di lavoro nello stabilimento veronese di Riva Ciai. Dopo due settimane di presidio permanente, di riunioni, di incontri, di paure e di manifestazioni, finalmente una buona notizia. Le 497 persone, in gran parte operai, da oggi possono tirare un sospiro di sollievo e sperare nel futuro. Grazie a questa battaglia sindacale che è durata 15 giorni, siamo riusciti a trovare una soluzione. La soluzione è stata trovata mediante un incontro, quindi non è stato fatto il decreto come si paventava, ma mediante un incontro mettendo insieme le banche con la proprietà e quindi che hanno trovato un accordo sulla fiducia di usione, sulla possibilità di che l'azienda sia impegnata a mettere ulteriori capitali a garanzia e comunque avere anche la possibilità di continuare a lavorare, che non gli vengano bloccate le produzioni di prodotto finito. I tempi tecnici per far ripartire l'acciaieria prevedono il ritorno al lavoro nel primo turno dei manutentori, poi dell'acciaieria, mentre per i laminatori sarà necessario attendere per un paio di giorni, ma la chiusura sembra oramai essere scongiurata grazie all'accordo tra azienda, banche e amministratore giudiziario insieme al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo strascico di queste settimane difficili riguarda un po' il recupero della credibilità sul settore, ma per quanto riguarda l'aspetto umano, i 15 giorni di presidio e manifestazioni hanno avuto dei risvolti importanti. Io dal punto di vista dei lati positivi vedo sostanzialmente due cose. Prima di tutto la solidarietà delle persone, cioè la città di Verona nonostante i disagi che abbiamo provocato, tanti cittadini passavano nel presidio e portavano cose da mangiare, portavano loro solidarietà. E l'altra cosa positiva che vedo è che il sindacato siamo riusciti a stare vicini veramente nel dramma delle persone, perché sono persone disperate che non sapevano, cioè da un giorno all'altro trovarsi chiusa la fabbrica, non sapendo la possibilità di avere un stipendio per continuare a vivere, erano nella disperazione. E poi la gioia immensa quando è arrivata la notizia che veramente sono stati abbracci di persone che hanno visto la fine di un incubo. Quindi dal punto di vista umano è stata un'esperienza bellissima.